Ho cominciato il porto, diciamo, come tradizione, perché mio nonno era portuale, mio papà portuale, miei zii portuali, i cugini, una schiera di Saravalle, diciamo, una compagnia portuale. Ho cominciato a fare le prime giornate nel fine 49, ero ragazzino, perché mio padre tra l'altro era già socio e caposquadra, aveva già un lavoro un po' importante e grazie, diciamo, a quel periodo lì, tenevano conto dei figli dei soci, no? Perciò eravamo tre o quattro figli di soci che quando Pellegrin, che era il dirittorio chiamato, veniva a fare le chiamate dalla finestra, eravamo sempre i primi a essere chiamate per andarci a lavorare. Anche per questo eravamo un po' criticati dagli altri giustamente, perché facevano un po' di favoritismi. Io mi ricordo che la merce che mangiavamo noi, più tanta era l'aria infusa, come fave, zolfo, carbone, di tutto c'erano. Ricordo che le fave, tanti che le soffattivano di allergia, venivano delle baciocche sul corpo enormi, no? Con prurite tutto, lo zolfo lo stesso. Poi c'era anche la pece, tutta roba che adesso ce la sognano, perché tra container e contenitori non la usano più. Allora, sono passato a ventizio nel 54, come già in regola, come lavori, ne ho fatto tanti, tutti abbastanza pesanti, diciamo. Portare i sacchi da quintale non era una nocciolina, perché in quei tempi eravamo ragazzi, abbastanza giovani, portare 100 kg sulla schiena di riso erano abbastanza duri. Tra l'altro, quando si stivavano i sacchi di riso, dovevi farcene stare il più possibile nell'estiva, no? Noi, come adesso, che sono stive larghe, puoi pentarli lì, là c'erano appunto le coperte, dovevi sfruttare al massimo tutto il posto che c'era. Faceva quasi una scala con i sacchi, no? Per poter salire e buttarli per aria. Aiutati da un compagno, quando dovevi prendere questi 100 kg e spingerli per aria, c'era gente forte che magari poteva anche farlo, ma gente un po' normale doveva essere un po' aiutata. Poi sono subentrate appunto le canalisti, il riso che veniva fatto aria, ariaggiato, tramite le maniche a vento, no? Ci facevano queste, queste canalette di, erano canalette di legno, no? Gabbie di legno diciamo, no? Orizzontali e verticali, per fare ariaggiare. Poi in seguito ci sono stati degli additivi che non servivano più, e mettevano delle cose, delle sostanze nel riso che non serviva più a ariaggiare. E lì è stato un bel lavoro, perché sono stato anche io a fare parte di questa, questa schiera di canalisti, ero un lavoro abbastanza meno faticoso da portarlo a spalle il riso, e in più. Poi ho fatto anche, portato le forcelle, i forgliffe, i trattori, le gru di bordo, che allora c'erano le gru di bordo, ah, i vericelli poi a vapore che erano, erano micidiali i primi, no? Venivano maneggiati col vapore, no? E c'erano i bighi, non c'erano gru. I bighi li ho visti a Genova, no? Lì al porto antico, quei bighi, quelli che mettevano i vericelli per poter portare sulla roba. Poi ci sono subentrate le gru di bordo, che era un bel lavoro anche quello. Poi cosa ho fatto ancora? Ah, niente, poi c'ho passato... Ah, tra l'altro c'era un fatto che io ero allergico ai cereali. Quando mi toccava andare ai silos a buttare giù il riso, no? Il riso e il grano, alla sera non le dico come venivano, gli occhi gonfi, tutte quelle cose lì, no? Perché in seguito cosa c'è stato? Ho stato responsabile del centro container dove c'è il piazzale Porto Nuovo, lì c'era un piazzale, ci stivavano tutti questi container che poi quando venivano i camion si prendevano con le forcelle e si caricavano i camion. La farina di pesce, tremenda, i sacchi di farina di pesce, tra l'altro nei sacchi di carta, il nerofumo che era micidiale, concime. I sacchi di concime arrivavano che sembravano piastre di marmo, perché veniva duro, no? E lavorare quei sacchi lì era terribile. Sono arrivato poi alla carica di viceconsole tramite gli amici di squadra che hanno riconosciuto, diciamo, la mia onestà, il mio modo di fare, no? Senza essere legato a nessun partito e mi hanno votato. Primo fatto però l'esperienza di tecnico di panchina. Il tecnico di panchina si intendeva andare a bordo, vedere il lavoro che c'era da fare, preparare, diciamo, le attrezzature per poter scaricare o caricare sta roba. Ah, niente, parlavano di esperienze, di incidenti. Io ho assistito a due o tre incidenti, tra l'altro tre mortali. Uno era il fratello di un tecnico della compagnia, che faceva il segnalatore alla zona 8. Era sulla coperta a dirigere l'agruno che veniva a portare questi fasci di verzelle di ferro. Era un po' precario perché i copertoni della stiva erano grossi, diciamo, piatti di ferro, no? E li avevano messi sopra ai lati. Ed era un po' difficoltoso a segnalare nella stiva al gruista, no? Arrivare o no, no? Fatto sta che a un certo punto questa imbragata che era lunga ha scontrato questo mio collega. Tra l'altro la stiva era ancora da iniziare il lavoro, era vuota. Ha fatto un volo che è rimasto secco. Io ero già tecnico, però non era il mio turno di lavoro. È successo al mattino, io ero al pomeriggio. Andarlo a dire al fratello, poi, che di questa morte non le dico come si sta in questi fatti. Poi ho visto un altro incidente brutto di un commesso, di una ditta di spedizione, sempre con la faccenda dei bighi, con i varicelli, no? Era in coperta, si era staccato. Il buscello, come li chiamati quelli? Buscelli, no? L'ha preso in testa, morto sul colpo, anche giovane, avrà avuto 25 anni neanche. Un altro, al capannone della cellulosa, manovrando le forcelle, c'erano i pesatori, no? Che contavano il carico o lo scarico, no? Si è girato, l'ha preso con la forcella, con le forche della forcella, ed è rimasto secco. Tre fatti proprio, tre fatti brutti. Le più tante che facevamo noi erano barche che venivano dalla Sardegna, no? Savona, Olbia, Sassari, portavano, si chiamava colettame, no? Merce varia, di tutto si caricava. E lì, anche lì bisognava cercare di stivare più roba, cercare di mettere più tanta roba possibile, no? Allora doveva avere un po' d'occhio per stivare ste, perché hanno tutte, tutte di misure diverse, non se scatole, se cose. Mi ricordo che ci imbarcavano anche le corbe, diciamo, in italiano poi ci chiamano, contenitori di, per i carciofi che venivano dalla Sicilia, no? Poi si imbarcavano le bombole, le bombole del gas. E mi ricordo che durante il tragitto queste barche qua di, che erano barche povere, diciamo, piccole, no? Allora potevano pescare i delfini, purtroppo. Pescavano i delfini, durante il viaggio facevano il musciame. Non so se non avete mai finito parlare del musciame. Musciame è il filetto dei delfini, che veniva estratto, fatto dei salami, appeso nella barca per farlo acceccare, no? Era un, diciamo, un prodotto molto ricercato, caro e buonissimo. Adesso lo fanno di tonno, una volta era prettamente di delfino ed era buono. Poi dopo, dove veniva tante navi dalla Svezia, dalla Norvegia, ma questo dopo, con la cellulosa, con il legname, con tante altre cose. Poi le macchine, non ne parlavamo delle macchine, perché le macchine si portavano, si caricavano a bordo in moto, con motore in moto, no? il gas che si mangiava in quell'estiva lì, anche lì dovevi cercare le navi, non erano tanto attrezzate per... Poi sono venute dopo, diciamo, le navi proprio per l'imbarco delle navi. C'erano barchi, navi che avevano anche la coperta e dovevi cercare di sfruttare il più tanto posto possibile per mettere il più di tante possibile. Poi se abbiamo entrato, diciamo, le navi proprio addette alle macchine, era un altro lavoro. Sempre, le portavi sempre in moto sulle rampe dalle navi per portarle sopra. Ci andavano a prendere le macchine nel silos di Ambrosetti, che adesso non c'è più, adesso c'è il grattacielo praticamente, no? Lì c'era un silos di macchine con tutte le rampe, che se andava su, si prendevano e si portavano a bordo direttamente. Ci faceva la spola davanti e indietro e lì il gas si è mangiato tanto. Poi niente, poi riguardo alla prevenzione, a quei tempi là non c'era nessuna prevenzione. Io mi ricordo che lavoravamo in stiva, in coperte, che noi dicevamo, ma chissà cosa c'è dentro, bidoni, bidoni di ferro, tutti schiacciati, tutti rovinati, che poi in seguito si è capito cos'erano. Erano rifiuti tossici senz'altro, dall'aspetto che avevano, no? Però nessuno se ne è mai interessato. Poi riguarda l'amianto non ne parliamo. L'amianto non hanno riconosciuto a nessuno, di quelli di noi che abbiamo maneggiato questi sacchi, perché arrivava il navico l'amianto, che si scaricavano, erano sacchi di carta, si strappavano anche, si faceva l'imbragata, andava su l'imbragata, sembrava che nevicasse. Noi non si sapeva che era nocivo, no? Veneva giù questa polvere di pezzettini di amianto e poi c'era dei cretini, che dico la verità, cretini, colleghi di lavoro cretini, i sacchi rotti, prendevano questo amianto, che era abbastanza, anche un po' umido, no? Facevano le palle come palle di neve e le tiravano, pensi un po' che roba, proprio cretini. Un altro materiale, appunto, che facevano male era il nero fumo che si respirava, la farina di pesce, il concime, c'era tantissime cose che nessuno ha mai, diciamo, indagato bene sul male che poteva fare a chi operava sulle navi, capisci? Noi avevamo tanto tempo libero, perché non so se adesso seguite sempre questo sistema, la squadra era formata di sei, no? Secondo che lavoro si poteva fare anche in tre. Praticamente il tempo libero era diviso, cioè facevi tre ore, poi le altre tre ore le faceva l'altro, eravamo un po' criticati per quello, però era una consuetudine che lo facevano tutti, no? Per quello che dicevano i portuali, qua, prendono i soldi, non lavorano. No, lavoro c'era, perché era anche pesante, non si poteva dire che non si lavorava. in seguito dopo ho fatto l'esperienza da tecnico, mi hanno convinto i miei colleghi di squadra di concorrere per sostituire Svettoni Giulio che era il viceconso della cattoria a tiraggio. Eravamo tre viceconso, dei tiraggio, quelli che lavoravano a bordo, sulle navi, i camali, i fachini, diciamo, e i piazzatori. C'avevamo un ufficio dove venivano i commessi dalle ditte a richiedere della mano d'opera. Noi mettevamo le squadre assieme per mandarli poi al lavoro, in collaborazione poi con il direttore di chiamata, gli passavamo diciamo i fogli con queste richieste e lui faceva le chiamate per mandarle al lavoro. Altro compito era i rapporti con le ditte. Io ho avuto qualche scontro con Orsero all'inizio delle banane per via delle squadre lui volevo sempre diminuire gli operai come lavoro perché anche quello lì era un lavoro pesante anche se le scatole non erano tanto pesanti però era un ritmo abbastanza sostenuto. Poi sono entrato a Trafrutta poi niente i rapporti con l'ente porto mi è dispiaciuto ho fatto un anno solo di esperienza perché avevo firmato per l'Esodo dopo un anno di attività da viceconsolo e sono andato in pensione. Mi piaceva mi piaceva come lavoro però lì con il nervoso che mi sono fatto perché gestire dei compagni di lavoro che hanno fatto una vita insieme sulle navi sulle panchine gestirli come dirigente non era tanto facile perché mi piaceva come mi piaceva come Grazie a tutti